L'Officine 08 nasce nel 2011 come negozio online di ricambi per personalizzare le moto. Per fortuna, abbastanza velocemente ci siamo evoluti, ci siamo ingranditi. Quindi l'evoluzione naturale di questa attività sta diventando l'officina, quindi preparazione e trasformazione delle moto che i clienti ci sottopongono. Quando ho avuto l'occasione di poter entrare a far parte di questa officina non me la sono fatta scappare. A noi piacciono soprattutto le moto anni 60, 70, 80, cioè una moto che oltre ad avere delle prestazioni aveva anche una ricercatezza secondo me quello che era il design. Lo zero e l'otto erano due simboli, due numeri se vogliamo, che davano un senso di continuità. Lo zero non è altro che l'oroboro, il serpente che si morde la coda. L'otto in realtà è il simbolo dell'infinito che viene semplicemente traslato di 90 gradi. Noi siamo Officine 08, passione motociclistica.